Mi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su CPECANISPO e benvenuti nel quinto episodio della serie Q&A Sangue, serie, serie, rubrica, nel quale mi fate domande e io pongo risposte. Naturalmente domande su di me, su quello che faccio in generale. Iniziamo appunto con la prima domanda, però prima di iniziare ci vuole la sigla. Prima domanda, Margherita Riccatto, sei gay? Io rispondo, ho già risposto, rimando il link del primo Q&A Sangue, quindi ho già risposto. Robert Maru, Marmoraru, Q&A Bella Giovi sei un grande, grazie, grazie, grazie mille veramente per tutti questi complimenti, mi fate a rossi. Quali sono i tuoi progetti per il futuro del canale? I miei progetti, continuare a crescere, continuare a portare video, portare anche video interessanti e divertenti. Il mio compito è quello di far ridere e di informarvi su determinate cose. Se volete rimanere informati, comunque vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, lì, diciamo, mi tengo più aggiornata, mi tengo più aggiornata con le notizie, più che altro. Stavaltorella, Q&A, fai un raduno a prendere la focaccia da forco. Eh, credo che saremmo solo io e tu. Robi the game, Q&A, perché non fai una live con Tommy come ai vecchi tempi? Tommy, i suoi impegni e i miei impegni, non so. Gli chiederò di fare la live e vediamo cosa dice. Cardaz, sei un grande e quando ti arrabbi con Fiff, fai troppo ridere. Grazie, grazie. Adesso che sei arrivato al mio iscritto, quali sono le tue intenzioni per il canale? Continuare a crescere, continuare a portare video, farvi divertire sempre. Continua così, mitico. Grazie mille, Cardaz. Adesso è un po' rica, bravo Giovi, continua così con il tuo canale. Spero che farai strada, grazie. Spero anche di fare parecchia strada, appena piano sì. Ti posso andare giù in genere di grandi obiettivi. Zasti, TV, Q&A, iscrivi al mio canale, ho visto qualche tuo video. Io non mi ricordo se mi sono iscritto oppure no, non mi ricordo. Tomo per cuoco. Ma se è una piccola zecca e non riesce a dormire? Suomo mi racconta la storia di pidocchio? IGN A channel. Q&A, saluta Jen nel video, bella, saluto Jen. Un BBTK, Q&A, sei povero? No, non sono povero. Non sono povero, non sono ricco, normale. Non posso permettermi dei super macchinoni, ma di sicuro non sono povero. Fantastici 2. Q&A, quando fai un pink slip, questo non lo so. Stavo pensando di farlo a qualcuno, così giusto per una volta ogni tanto. Però, non lo so, non lo so. So che voi vi esercite a vedervi incazzato. Lo so, lo so benissimo. Comunque prima di terminare il video, vi dico che sto preparando un video speciale per i 1000 iscritti. Sarà un video che non avete mai visto su questo canale, quindi lo sto preparando per bene. Ci vorrà forse un po' di tempo, perché è un'elaborazione molto complessa, molto lavorata per l'appunto. E vi chiederò un parere quando l'avrò finito, l'ho caricato su questo canale. Voi mi consiglierete se continuare a fare questo tipo di video, se non farli più, oppure se migliorarli in certi modi. Dunque ragazzi, questo video termina qui. Vi invito a lasciare altre domande. Domenica prossima vi risponderò. Mettete un bel pollice all'insulso in questo video. Vi è piaciuto? Ci vediamo in un nuovo video. Ciao ragazzi!